Musica E' approdata ad Otranto la spedizione mediterranea che per 5 anni vedrà scienziati di diverse nazionalità impegnati nello studio del Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale. Una barca a vela di 18 metri è salpata da San Benedetto del Tronto lo scorso 17 maggio e concluderà il suo viaggio dopo aver percorso 20.000 miglia toccando 29 paesi svolgendo ricerche, esperimenti e portando con sé messaggi di pace e di amore per il mare. Questo pomeriggio l'imbarcazione è salpata nel porto di Otranto radunando esperti del settore impegnati in un convegno sul progetto Mediterranea. Lo scopo e gli obiettivi del progetto Mediterranea sono in linea di massima tre uno di carattere culturale, uno di carattere scientifico e uno di natura nautica. La Lega Navale Italiana unitamente al Ministero degli Esteri al Comando Generale delle Capitrine di Porto e alla Presidenza del Consiglio e la Lega Navale Italiana nazionale sono partner di questa missione scientifica che ha come principale obiettivo quello di conoscere e studiare il Mediterraneo non solo come mare ma anche come popoli tanto è vero che saranno visitati 29 nazioni e quindi studieranno le culture, i costumi, gli usi e tutto quello che è necessario e serve per quanto riguarda la conoscenza di questo enorme territorio che da questo punto di vista non è stato mai oggetto di un progetto così completo e complesso nel suo insieme. L'equipaggio in generale farà circa 20.000 miglia quindi 37.000 km per 5 anni e incontreranno durante tutte queste tappe che saranno numerosissime un sacco di scienziati un sacco di filosofi che si alterneranno sull'imbarcazione per trattare i temi di cui dicevo prima. Ecco, poco fa siamo stati a bordo di questa barca di Mediterranea e si parlava anche di analisi del plankton. Uno degli argomenti che questa sera discuteremo nel convegno e anche della presenza del plankton nel Mediterraneo tanto è vero che gli scienziati presenti comunicavano sulla barca che quasi la metà del Mediterraneo della metà del Mediterraneo non siamo a conoscenza del plankton perché non è stato mai fatto uno studio scientifico ad hoc come quello che si sta facendo adesso. Questo sta a significare l'importanza di questo progetto o di questa missione scientifica che è una cosa unica e ci auguriamo che non sarà l'unica tanto è vero che questa sera si parlerà anche di plastica nel senso che ci sono degli esperti in questo settore i quali diranno quelli che sono i danni che la plastica produce non solo sul mare ma di conseguenza anche sull'intera collettività. Grazie a tutti! Grazie a tutti.